Una delle nuove misure che il governo valuterà oggi riguarda la riduzione della validità del Green Pass dai 9 mesi attuali ai 6. Questa opzione deve fare però i conti con un problema, ovvero la presenza di milioni di italiani che hanno effettuato la seconda dose più di 6 mesi fa e non hanno ancora fatto la terza. Sono 3 milioni che da gennaio rischiano di rimanere senza certificato e potrebbero trovarsi impossibilitati ad accedere a bar, a ristoranti, a partecipare alla vita sociale oppure a lavorare se appartengono alle categorie per cui è previsto l'obbligo.